M. Narcisi, una partita giocata per lunghi tratti alla pari con questo Chieti non è bastato per ottenere un risultato positivo? Sì, tranne i primi 20 minuti dove loro onestamente ci sono stati superiori, hanno messo dentro un ritmo che noi non avevamo. Dopo quei 20 minuti secondo me abbiamo fatto una grandissima partita alla pari contro una grande squadra, anche perché i numeri dicono che è la seconda forza del campionato e nel giorno di ritorno ha avuto dei numeri strepitosi. Mi sembra che attualmente sia la prima in classifica se consideriamo solo il giorno di ritorno. Questo deve riempirci d'orgoglio perché se oggi questa partita era aspettata da tutti gli addetti ai lavori come la partita di cartello è perché abbiamo fatto un percorso incredibile, quindi se Chieti Torrese è la partita di cartello della giornata dobbiamo essere orgogliosi e fieri di quello che abbiamo fatto. Quali le ambizioni adesso della Torrese per questo finale di campionato? Dobbiamo onorarlo, dobbiamo continuare a giocare le partite al massimo come abbiamo fatto oggi cercando di ottenere il miglior posizionamento in classifica perché per me arrivare Sesti o arrivare Noni non è la stessa cosa e quindi continueremo a fare quello che abbiamo fatto fino adesso come se avessimo ancora l'obiettivo del playoff. Marino, vittoria ottenuta in rimonta, una gran bella partita, un secondo posto assolutamente consolidato, ha perso anche il Giuliano oggi, tutto positivo per il Chieti. Il Giuliano è un po' troppo distante, però stiamo tenendo lo stesso cammino del Giuliano con i punti nella mia gestione quindi tutto lascia dire che questi ragazzi stanno comportando in modo egregio, stanno dando onore a questa gente che ci segue da tutte le parti e che giocare nel Chieti deve finire sempre la partita con la maglia insanguinata quasi. Visto il cammino proprio nella seconda parte, dopo il suo arrivo, c'è un po' di rimpianto insomma per questo campionato, per quello che si poteva fare? Rimpianti è inutile, ormai dobbiamo andare avanti, dobbiamo fare il massimo perché comunque è un campionato difficilissimo, io l'ho sempre detto che vincere le partite in questo girone, in questa categoria, le devi vincere di testa, di cuore, non basta la tecnica perché stiamo vedendo, Giuliano ancora fa fatica, vieni qua a vincere su un campo difficilissimo, una squadra ostica che comunque è ancora in lotta per i play-off, in un campo piccolo dove soffriamo un pochettino questi campetti più piccoli in casa, raramente ci creano problemi, quindi siamo stati doppiamente bravi perché l'avevo avvisato ai ragazzi, il cammino nostro su questi campetti è un po' diverso. Vi guardate alle spalle o c'è qualche ultima speranza? No, non ci guardiamo alle spalle, noi ci guardiamo avanti di fare più punti possibili, poi succeda quel che succeda, io non posso che elogiare questi ragazzi che mi stanno veramente dando il cuore, io forse a volte esagero, però vedo che comunque rispondono e si va avanti.